Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a vedere Chi è che vuole vedere andiamo a vedere Andiamo Allora grazie a tutti Finisco, vi abbraccio Adesso andiamo a vedere Abbiamo i nostri referenti che sono lì Vi daremo poi le notizie a qualche minuto Se volete sapere le abbiamo in tempo reale Quindi vi abbraccio a tutti e ci vediamo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti